Per me la My Life Design Onlus è famiglia, è un aspetto di quell'essere casa in cui posso aprire, aprire il mio cuore, tutto quello che ho dentro, un luogo di condivisione, un luogo di costruzione di una realtà di consapevolezza, delle virtù, della gentilezza, della costanza, della pazienza, dell'umiltà, della passione, dell'amore. Questo per me è la My Life Design Onlus ed è per questo che destino a questo progetto, a sostegno di questo progetto, di questa realtà, il mio 5 per mille. E per te? Per te cos'è? Per me è una promessa mantenuta, quella di dare agli altri come a noi è stato dato. Per me è condivisione, condivisione di un modo di essere, di una possibilità di benessere e di libertà per tutti. Per me è vita che dona vita, amore che dona amore. Per me rappresenta la possibilità di donare quanto di più prezioso io abbia ricevuto, degli strumenti di conoscenza di me stessa e di autorealizzazione. Per me è l'insieme di persone straordinarie che incondizionatamente si mettono a servizio della comunità dando una nuova possibilità e speranza alle persone più svantaggiate ed emarginate. Per me è la visione di un'Italia gentile, in cui i valori si trasformano in progetti concreti e in azioni capaci di generare un profondo impatto sociale a beneficio di tutti. Per me è accoglienza, accoglienza al di là di qualsiasi giudizio. È stato quell'abbraccio, quel calore che mi sono proprio arrivati diretti al cuore. È casa. Per me è un'occasione. È l'occasione di fare qualcosa di concreto, di far nascere un sorriso là dove nessuno se lo aspetta. Per me è la possibilità di essere dono per l'altro. Per dono. Per me è la possibilità di fare progetti come questo, qui nel carcere, e di incontrare una parte di me anche con coloro che incontro, come ad esempio i detenuti. Per me è l'opportunità di portare i valori del My Life Design all'interno dei contesti sociali e poter fare questo insieme. Per me è il percorso di una vita insieme. Nella My Life Design Onlus ci sei tu, c'è la mia famiglia, ci sono i miei amici, ci sono i passanti, tutta la gente che incontro tutti i giorni per strada. Tutti quanti fanno parte delle relazioni che io ho e che ci portano a unità. Quindi per me, per te, per loro, possiamo sostenere i progetti della Onlus per un progetto di consapevolezza, di unità e di pace.